Eccoci qua Panzer, 3-0 con Padova, from MVP della partita, secondo giornalisti presenti al Palevangelisti, soprattutto tre punti importanti, abbiamo ripreso il cammino Cristian. Sì, assolutamente, era una buona presentazione nostra dopo questo semifinale di sabato scorso e sono contento che abbiamo fatto questa reazione. Grazie a Lucio per questa alzata e a tutta la squadra per questa reazione e spero che questa porta energia per le prossime partite. Allora, tre punti importanti per il molare, per riprendere e anche dal punto di vista della classifica, perché la partita fra Verona e Civitanova, il risultato fra Verona e Civitanova, ci ha riportato al quarto posto. Ormai con Verona, forse con Trento, vediamo se riusciamo, sarà una guerra fino all'ultimo giorno, fino all'ultima giornata. Sì, assolutamente questo campionato è duro. Noi volevamo vincere tutte le ultime partite e allora dobbiamo giocare bene e poi vediamo cosa succede. Allora, l'ultima cosa Cristian, abbiamo due trasferte consecutive in campionato, voglio focalizzare l'attenzione sulla prossima partita qua, quella di Nemo Mosca. Abbiamo sconfitto i tuoi con Nazionale del Duren, adesso c'è un ostacolo sicuramente più difficile, ma sicuramente molto più, come dire, eccitante da superare. Sì, allora io sono contento che abbiamo una partita difficile così, perché porta sempre avanti. Spero che ci siamo con tanta gente qua a Perugia per vincere questa partita e sì, speriamo tutti insieme facciamo qualcosa di grande. Grazie Cristian. Grazie a tutti.